Cameron, chi è quel titolo? Buongiorno, Dream Team. Vi trovo bene. A parte te, Nathan, ovviamente. Queste devo lasciarle qui? Sì, grazie. Vinnie. Vinnie. Vinnie Walker. Vinnie Walker. Ragazzi, vi presento Vinnie Walker, ha talento da vendere. Mi la... Piacere, Vinnie Walker. Ciao. Tu giochi in qualche squadra, Vinnie? No, no. Non gioco più. Dovresti. Sei un fenomeno. Già. Con i ragazzini. Siamo una squadra di football internazionale. Quale nazione rappresentate? Rappresentiamo l'Inghilterra. In effetti sono giocatori molto bravi. Potrebbero fare strada in futuro. Più giocano insieme, più diventano forti.